Gli arresti odierni scaturiscono dalle conversazioni telefoniche intercettate dalla polizia di Pescara nell'ambito dell'inchiesta Caligola e da alcuni esposti del WWF. Associazione delinquere finalizzata a commettere una serie indeterminata di delitti contro la pubblica amministrazione segnatamente perturbativa degli incanti e corruzione. Questi reati contestati a vario titolo ai sette indagati dalla procura di L'Aquila in riferimento alla gara d'appalto per il project financing che riguarda la gestione e l'ampliamento del cimitero di Francavilla al mare. Nel corso delle indagini è emerso che sorgi di fatto sarebbe l'amministratore della società LT Progetti SRL, legalmente intestata a sua moglie che comunque non risulta tra gli indagati. La LT Progetti unitamente alla sincretica SRL, il cui direttore tecnico è Giovanni Vaccarini, anche egli indagato, e alla di Ferdinando Michele Costruzioni Generali SRL, il cui direttore tecnico Antonio di Ferdinando risulta parimenti indagato in questa inchiesta, hanno dato vita al consorzio Progetti e Finanza che ha partecipato alla gara per i servizi cimiteriali di Francavilla, annullata qualche mese fa dal comune per vizi di forma e tecnici nella redazione del bando. Secondo quanto ricostruito dal procuratore capo di L'Aquila Fausto Cardella e dai sostituti Antonietta Picardi e Simonetta Ciccarelli, grazie all'attività dell'architetto Antonio Giordano, segretario della commissione di gara, e a quella del presidente della commissione Roberto Livieri, anche egli sottoposto ad indagini, Sorgi, Vaccarini e Di Ferdinando sarebbero riusciti a turbare il regolare svolgimento della gara d'appalto, pilotandola a loro favore attraverso la falsificazione di uno dei verbali della commissione. Tra gli indagati risultano anche altri due componenti della commissione di gara.